Vieni a provare le nostre specialità. Un monaco alla piramide di Via Nazionale a Nocera Superiore. I carabinieri della tenenza di Cava dei Tirreni, agli ordini del tenente Vincenzo Pessolano, su disposizione della DDA di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza agli arresti domiciliari nei confronti di tre soggetti, Apicella Francesco, classe 73, e dei fratelli Mercurio Cristian e Mercurio Emanuele, rispettivamente classe 98 e 96, in ordine ai delitti di concorso in tentata estorsione e lesioni plurime in danno di VM, DMA, PG e MG. Le indagini hanno accertato che questi ultimi, ovvero le parti offese, nel pomeriggio dell'11 gennaio scorso, su un mandato di VM, titolare di una nota attività di panificazione di Cava dei Tirreni, si recarono in un immobile situato in Corso Mazzini per una perizia estimativa, poiché lo stesso era intenzionato ad acquistare il cespite. Mentre erano sul posto, gli stessi vennero assaliti violentemente a colpi di spranghe dai due giovani che le attendivano nei pressi dell'appartamento. Le indagini hanno accertato che Apicella Francesco, soggetto interessato all'acquisto dell'immobile con la tentata estorsione, intendeva impedire con forza che l'affare con gli altri interessati andasse a buon fine, volendo imporre coattivamente al VM la rinuncia all'acquisto dell'immobile. E' un'immobile.